Salve, oggi vedremo come creare facilmente una web radio utilizzando l'applicazione Spreaker Le possibilità di utilizzo di una web radio nella didattica sono sicuramente tantissime dallo storytelling alle interviste impossibili o la creazione di vere e proprie web news insomma l'unico limite potrebbe essere la nostra fantasia a tutto il resto ci pensa Spreaker che è un'applicazione facilissima da usare allora Spreaker è un'applicazione web based come prima cosa dovete andare sul sito speaker.com e effettuare il login anche il login è un'operazione molto semplice in quanto vi dà la possibilità di accedere direttamente tramite facebook, twitter o google allora una volta che effettuate l'accesso che io ho effettuato tramite facebook vi troverete nella pagina principale la prima volta che entrerete l'applicazione vi proporrà anche un tour per mostrarvi le principali funzionalità di Spreaker andiamo subito a vedere quello che ci interessa quello che ci interessa è la funzionalità, l'opzione crea appunto come creare i nostri episodi, la nostra web radio quindi io clicco qua su crea e ci vengono subito mostrate le varie possibilità che Spreaker offre possiamo importare ma anche esportare dei feed RSS funziona questa che vedremo in seguito quando vi mostrerò come creare un blog didattico con Wix che permette proprio di importare facilmente questo tipo di file possiamo caricare i nostri file possiamo scaricare l'app desktop possiamo scaricare l'app per dispositivi iOS o Android quindi per creare e gestire facilmente i nostri episodi radio anche con il nostro telefonino e poi possiamo anche incorporare una serie di strumenti esterni che vedremo magari in seguito una cosa però che voglio subito mostrarvi è l'app desktop infatti noi lavoreremo proprio da questa app scaricando voi l'app direttamente sullo schermo del vostro computer avrete infatti un accesso molto più facile e veloce al vostro speaker studio allora una volta che scaricate l'app questo sarà l'aspetto del vostro mixer virtuale eccolo qui allora queste sono delle bozze ma se andiamo qui e clicchiamo su registra ecco qua che abbiamo il nostro mixer virtuale che ci permetterà di registrare e mixare i suoni che noi vogliamo utilizzare per creare la nostra trasmissione radio come prima cosa io vi consiglio di caricare subito delle playlist o delle tracce che potrete utilizzare durante le vostre registrazioni e caricarle è semplicissimo basta cliccare qui sul segno più e scegliere il file che volete inserire io qua mi ho già inserito uno di prova è Sunrise di Nora Jones come vedete il mixer ci mette a disposizione tutti gli strumenti standard di un vero e proprio mixer quindi microfono e sorgenti altri effetti sonori vari ecco qui abbiamo per esempio gli applausi qua abbiamo un temporale voi potete anche aggiungere altri effetti andiamo però adesso a vedere quelle che sono le funzioni base quindi come creare una registrazione magari con un sottofondo musicale è molto semplice allora per far partire la traccia che io ho caricato non devo far altro che cliccare qui sul tasto play posso poi regolare il volume e posso, strumento questo è molto interessante creare anche un effetto di dissolvenza utilizzando lo strumento fader vedete posso alzare il volume e anche abbassarlo creando una dissolvenza nel momento in cui io decido di fare entrare la mia voce facciamo subito una prova allora per iniziare la registrazione basterà cliccare su inizia io intanto faccio partire la musica adesso iniziamo la nostra registrazione come vedete ho la possibilità di creare una registrazione live quindi in diretta oppure offline una voce che poi pubblicherò io in seguito essendo questa una prova partiamo con una registrazione offline salve a tutti questa è una prova di registrazione per il tutorial su come creare una web radio utilizzando speaker come vedete adesso ho utilizzato lo strumento per la dissolvenza per abbassare il volume della musica e parlare sopra la traccia musicale come una propria e vera radio adesso alzerò di nuovo il volume della musica e poi ho utilizzato il volume della musica Bene, abbiamo creato la nostra bozza, come avete visto ho utilizzato il fader per creare la dissolvenza quindi ho parlato sopra la traccia che io stesso ho caricato ma vi ho anche mostrato una serie di effetti che voi volendo potete aggiungere alle vostre registrazioni andiamo però adesso a vedere la nostra bozza e come pubblicarla allora io posso eliminarla, se non mi piace creare subito un'altra, posso esportarla, quindi scaricarla direttamente sul mio computer oppure posso decidere di pubblicarla nel momento in cui io decido di pubblicarla Spreaker mi dà subito la possibilità di aggiungere un titolo, una descrizione, dei tag e poi di aggiungerla a uno show che io ho già creato in questo caso io ho creato uno show di prova che si chiama Web Radio dopodiché possiamo anche aggiungere un'immagine da associare alla nostra registrazione, al nostro file audio e decidere poi se pubblicarlo subito o pubblicarlo in seguito vi faccio vedere subito l'aspetto che hanno le pubblicazioni poi sul vostro profilo quindi per andare sul vostro profilo dovete cliccare qua dove c'è scritto episodi pubblicati e questo è il pannello di controllo vi compariranno subito nel pannello di controllo i vostri show in questo caso io ne ho creato solo uno di prova, si chiama Web Radio e potete cliccare per visualizzarlo o modificarlo le vostre tracce compariranno qua in basso come vedete potete sempre modificarle, modificare i dati e potete facilmente condividerle potete condividerle tramite un link, un permalink, un codice da incorporare oppure potete condividerle direttamente sui vostri canali social un'altra funzione molto interessante è quella di condividere i vostri show tramite il link RSS questi però li vedremo in seguito quando vi farò vedere come creare un blog didattico con Wix che mette a disposizione delle applicazioni molto interessanti proprio per condividere questo tipo di strumenti tramite il link RSS per adesso è tutto grazie 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 grazie